Il terremoto in Turchia è il racconto del vigile del fuoco pratese impegnato nelle operazioni di salvataggio. Esce per raccogliere la legna e non rientra a casa, 64enne trovato senza vita a Vernio e decesso per cause naturali. Via San Giorgio è una strada sempre più deserta e dopo 12 anni in Viale Galilei chiude il caffè Lorenzo. Dalla sconfitta nel derby di Pistoia alla contestazione dei tifosi, il momento no del Prato. E una buona serata a tutti voi dalla redazione di TV Prato, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale della sera. In apertura torniamo a parlare del drammatico sisma che ha colpito Siria e Turchia. Si aggrava il bilancio delle vittime che sono ben 41.000. Abbiamo incontrato uno dei vigili del fuoco di Prato rientrato giorni fa in Italia al termine di una settimana di operazioni di salvataggio tra le macerie. Sentiamo la sua testimonianza. È rientrato in Italia da alcuni giorni. Marco Squilloni, 37 anni, vigile del fuoco pratese, in servizio qui a Prato dal 2011. È una delle 50 unità del gruppo Usar dei vigili del fuoco che ha operato la scorsa settimana nei territori devastati della Turchia, precisamente ad Antiochia. Stamani l'incontro con la stampa per raccontare come ha operato questa squadra composta da personale toscano e laziale in quei territori e ovviamente spiegare ai giornalisti che cosa resta di quell'esperienza. Che scenario si è trovato di fronte innanzitutto? Dire uno scenario devastante forse è un po' riduttivo. Comunque sì, è un evento catastrofico di dimensioni enormi. Ecco, questo sì. Come vi siete organizzati operativamente sul campo per intervenire? Allora, la prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati è trovare un punto dove instaurare un campo base. Da lì sono cominciate le prime fasi di assessment, cioè di verifica dei siti di lavoro. Successivamente tutto il team si è organizzato in turnazioni di squadre di lavoro che hanno permesso il lavoro sui vari siti, sui vari cantieri fino al raggiungimento dell'estrazione di alcune vittime. Appunto abbiamo estratto due persone vive, subito il primo giorno arrivati e questo ci ha dato sì molta forza di andare avanti. Quegli erano le difficoltà principali, oltre ovviamente ad operare molte volte a mani nude in uno scenario difficile con gradi bassissimi di temperatura. Uno degli aspetti che forse la popolazione ci ha dato una mano è la parte linguistica, cioè lo scalino che si formava fra noi italiani e la parte turca. Questo è stato un pochino… ci hanno aiutato dei ragazzi, dei volontari delle città limitrofi che si sono messi a nostra disposizione in modo da tradurre da inglese a turco e fare un po' di tramite in tutti i giorni della nostra permanenza sul posto. La popolazione, lei ha detto, vi ha fatto sempre sentire la propria vicinanza portandovi anche del tè caldo. Sì, c'era pieno appoggio alla popolazione, chiaramente una popolazione che ha avuto un evento sismico inimmaginabile e comunque riesce sempre a essere grata a chi gli porta a soccorso. Il comando di Prato, seppur piccolo, rappresenta veramente un'eccellenza nell'ambito dell'erogazione del soccorso. Noi partecipiamo a tutte le specialità del corpo nazionale. Qui a Prato abbiamo un campo macerie specifico per l'addestramento delle unità cinofile e ci sono diversi vigili del comando che hanno la formazione USAR che sta per Urban Search and Rescue, quindi ricerca sotto macerie e interviene tutte le volte che sia in ambito nazionale che internazionale si verifichiano dei sismi. Andiamo adesso a Vernio dove un uomo di 64 anni scomparso da ieri pomeriggio è stato trovato morto questa mattina all'alba in località Lesoda. L'uomo era uscito ieri pomeriggio per raccogliere legna nei boschi vicino a Mangona nel comune di Vernio. I familiari non vedendolo rientrare verso le 19 hanno dato l'allarme e immediatamente sono scattate le ricerche. La macchina dei soccorsi ha visto impegnati carabinieri, volontari di varie associazioni e visili del fuoco con l'ausilio di un drone. Un'attenta elaborazione dei dati relativi alla rete telefonica ha permesso di individuare una zona in cui concentrare le ricerche ed è stato proprio lì che nella notte sono stati rinvenuti in una strada bianca l'auto e l'uomo. La salma è stata rimossa dalla misericordia. Le cause del decesso sono attribuibili ad una morte naturale. E torniamo adesso a Prato. Si susseguono le chiusure soprattutto di bar nella zona attorno al Serraio. Dopo lo storico caffè San Giorgio venerdì chiuderà il caffè Lorenzo in Viale Galilei. Preoccupati i pochi commercianti nella zona ancora attivi. Un indizio è un indizio. Due indizi sono una coincidenza ma tre indizi fanno una prova. Prendendo in prestito Agata Cristi è quello che è successo nella zona tra Viale Galilei, il Serraglio e via San Giorgio. Tre bar più o meno storici hanno abbassato via via la Sara Cinesca. Cioccolà è diventato nel frattempo caffè Viola, poi circa tre settimane fa il caffè San Giorgio e ora anche il caffè Lorenzo, l'ultimo in ordine di tempo ad arrendersi. Venerdì sarà l'ultimo giorno di apertura dopo 12 anni di attività. Il covid, gli affitti troppo alti, il calo delle presenze, l'aumento dei costi energetici, tutti i fattori che hanno messo in difficoltà le attività. Anche questa parte di città sta perdendo pezzi di vitalità, in particolare via San Giorgio dove il bar era aperto da decenni. Ormai le attività si contano sulle dita di una mano e il timore dei commercianti è che quest'ulteriore chiusura possa degradare ulteriormente la zona. Siamo rimasti in due e la strada è già completamente deserta. Il timore è che tornino tutte quelle attività illegali che già ci sono state in passato. Il timore è quello. Quando i proprietari preferiscono tenere vuoto un locale piuttosto che prendere qualcosa meno d'affitto è un bel problema. La chiusura di questo bar è veramente stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso per questa strada, la quale è diventata triste, deprimente sotto molti aspetti perché oltretutto circolano anche personaggi non proprio idonei alla situazione di un centro storico quale quello di Prato. Non c'è più giro, non c'è più persone, c'è una tristezza infinita e poi la paura anche la sera quando fa buio qui non si esce più e purtroppo ora riemincerà tutti i giro che io ho visto tossici, spacciatori e noi ci toccherà piano piano, ci toccherà andar via anche a noi. E passiamo ora alla cronaca. È stato riconosciuto da un poliziotto delle volanti che aveva visionato le immagini di videosorveglianza del locale, l'autore di una rapina e danni di un negozio di via Marini. Nell'episodio risalente ad alcune settimane fa, l'uomo aveva agito armato di coltello. Si tratta di un 34enne cittadino marocchino pregiudicato che è stato individuato la scorsa notte al macrolotto Zero, mentre ammeggiava tra i vasi di alcune piante all'esterno di un bar. L'uomo è stato accompagnato in questura e denunciato per il reato di rapina. Nell'ambito dei controlli del territorio, ieri gli agenti delle volanti hanno inoltre denunciato uno spacciatore trovato con sette dosi di ascici in via Magnolfi e due dei quattro occupanti di un'auto fermata in via Braga. L'automobilista, un quarantenne italiano, dovrà rispondere di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Il passeggero è stato denunciato per furto aggravato per aver rubato poco prima alcuni oggetti da un'auto in sosta. E voltiamo pagina. I progetti legati a educazione, istruzione e formazione costituiranno la priorità dell'azione della Fondazione Cazza di Risparmio di Prato, che continuerà anche a sostenere il mondo della cultura e del sociale. Il programma di mandato è stato presentato ieri all'Assemblea dei Soci dalla Presidente Diana Toccafondi, che ai nostri microfoni parla anche del futuro delle opere della Galleria degli Alberti. Sentiamo. Nel Consiglio di indirizzo le indicazioni sono proprio queste, di privilegiare con un 40% dell'erogazione il settore dell'educazione e formazione. Quindi saranno 40% su educazione e formazione, 30% sulla cultura e 30% sul sociale. È un segnale proprio di attenzione particolare su quella che riteniamo un'emergenza assolutamente prioritaria, che è quella appunto del settore giovanile, quello che chiamiamo l'abbandono scolastico, la povertà educativa, a cui abbiamo dedicato un bando specifico, che è quello appunto di Prato, comunità educante. Capitolo Galleria degli Alberti. Prato ha vinto la battaglia al Consiglio di Stato per la permanenza del vincolo pertinenziale alla città delle opere. La Fondazione un anno fa ha partecipato dalla manifestazione di interesse presentando un'offerta di acquisto. Che ruolo potrà avere la Fondazione anche in futuro, quando la curatella dovrà, prima o poi, nuovamente porre il tema della cessione delle opere? Lei ha detto bene Prato. Prato perché è stato un movimento corale di soggetti diversi che hanno combattuto questa battaglia. Ecco, noi siamo parte di questa comunità e siamo parte insieme agli altri soggetti e intendiamo continuare a fare la nostra parte. Naturalmente siamo in attesa anche degli sviluppi dal punto di vista di quelli che saranno gli atti dei curatori fallimentari, insomma dei liquidatori. Naturalmente qualunque azione noi faremo la faremo coordinandoci con gli altri soggetti che hanno partecipato a questa vicenda e coordinandoci con Banca Intesa perché Banca Intesa è quella che ha investito un patrimonio importante nel nuovo allestimento che ha aperto. Io intanto direi che proprio per quel futuro possibile che richiamavo ieri in assemblea, quindi futuro come dire che forse è vicino, è già nostro presente, dobbiamo lavorare per la valorizzazione di questo patrimonio all'interno della rete museale Pratese, aprire, fare, è già aperto, ma naturalmente incentivare le persone a visitarlo, a vederlo, a conoscerlo. Ecco, questo è già un futuro possibile e poi da questo nasceranno sicuramente altre cose. E ci occupiamo adesso del distretto Tessile Pratese dove nonostante una ripresa confermata dai dati relativi al 2022 si respira un clima di incertezza per l'andamento dei prossimi mesi. Audizione in Commissione Comunale Bilancio per Confartigianato per fare il punto sull'andamento del distretto, in particolare delle PMI, fra un 2022 partito con slancio, con numeri positivi, ma con un progressivo aumento dell'incertezza verso il futuro a partire dall'estate, anche a causa delle stangate energetiche che hanno imperversato sui conti delle imprese, incertezza che adesso si sta trascinando pure sul primo trimestre del 2023. Un'annata che sicuramente era partita con uno slancio e segna dei numeri positivi, anche a doppie cifre, su determinati valori come l'export. Però tutto il trend del 2022, quindi questa grande spinta, è andato ad attenuarsi soprattutto da dopo l'estate. Da dopo l'estate iniziamo già a vedere che il trend andava cambiando, affievolendosi. Di conseguenza la fotografia che è venuta fuori ieri e di un 2022 è sicuramente positivo, che però lascia alla fine dell'anno e soprattutto ad oggi, che siamo appunto nel primo trimestre del 2023, una certa incertezza. A confermare le incertezze per il 2023 ci sono anche i dati del Centro Studi di Confartigianato. La previsione è di un calo del 7,5% dei nuovi ingressi lavorativi rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati inoltre certificano la stangata energetica che è costata il 3,5% del PIL in provincia di Prato nel 2022. La provincia di Prato registra un incremento del costo della bolletta energetica per quanto riguarda l'energia elettrica solo per le piccole e medie imprese, incrementata di 267 milioni. Sono valori elevatissimi che si sommano ad una spesa per l'energia che è già alta all'interno del distretto proprio in virtù di quelle che sono le lavorazioni che vengono svolte all'interno della provincia di Prato. Per cui questo tema sta assumendo dei connotati che sono ancora più rilevanti rispetto a quanto non già fossero fino all'anno scorso. La politica e il Movimento 5 Stelle si riorganizza. Oggi il leader Giuseppe Conte ha provveduto a confermare la designazione dei coordinatori regionali e a nominare nuovi coordinatori a livello locale. Per quanto riguarda Prato il nuovo coordinatore provinciale è Carmine Maioriello, attuale consigliere comunale dei Pentastellati. Ringrazio per la fiducia il presidente Conte e la coordinatrice regionale Irene Galletti che è la nostra capogruppo in regione, afferma Maioriello. Sono pronto a continuare a lavorare per fare una squadra per il radicamento sul territorio e rendere ancora più incisiva l'azione del Movimento 5 Stelle e per far conoscere ancora meglio tutte le nostre iniziative. E ci spostiamo adesso a Poggio Accaiano per toccare il tema delle elezioni amministrative. Riccardo Palandi è il candidato del Centro-Destra Unito. Tivo Prato l'ha intervistato in vista della puntata di domani sera di Parliamoci Chiaro, il nostro talk di attualità che sarà dedicato tra le altre cose anche all'appuntamento elettorale poggese. Sentiamo un estratto dell'intervista. La mia idea di campagna elettorale sicuramente è nata dalla mia candidatura di sindaco, da un percorso fatto da anni all'interno della città. Io sono un poggese e da anni mi sono inoltrato, mi sono occupato di molte cose all'interno di Poggio Accaiano, fra cui la scuola, facendo parte del Consiglio d'Istituto. Sono tuttora ancora presidente del circolo di Bonistallo, quindi ho fatto volontariato e ho parlato e seguito con tante persone all'interno di Poggio Accaiano. Questo mi ha spinto e mi ha dato sempre l'input per poter fare una cosa in più. Questa candidatura cade proprio precisa perché è il mio sogno che si può avveare per poter veramente modificare e fare cose molto belle all'interno di Poggio Accaiano. Penso di poter fare molto uniti a loro, alle associazioni e chiaramente ai partiti che per questa volta si sono alleati, però hanno fatto un passo indietro per portare avanti la mia candidatura civica, che sono poi quello io che loro cercavano. Il consigliere comunale di centro-destra Claudio Stanazel prenderà la cittadinanza italiana. Stanazel, di nazionalità romena, giurerà davanti al sindaco Matteo Biffoni in una cerimonia fissata per il 2 marzo in Palazzo Comunale. È il primo amministratore di origini rumene di un comune di grandi dimensioni a diventare cittadino italiano durante il mandato. Stanazel è nato nel 1994 a Craiova in Romania. È arrivato in Italia all'età di 6 anni e ha sempre vissuto a Prato. Si è diplomato in informatica al Buzzi, dove è stato anche rappresentante di istituto. Adesso è imprenditore nel ramo della logistica e vicepresidente del Consiglio Comunale. Stanazel manterrà il doppio passaporto. E scopriamo adesso di che cosa si parlerà d'intorno alle 9 in onda subito dopo il Tg. La parola a Lucrezia Sandri per le anticipazioni. Edilizia scolastica ma anche strade. Parliamo degli interventi in corso nella provincia di Prato e quelli gestiti direttamente dall'ente provincia con il presidente Simone Calamai. Buonasera. Buonasera. Appuntamento subito dopo il Tg con intorno alle 9. E ci spostiamo adesso a Montemurlo dove domenica alla Sala Banti parte la nuova stagione teatrale dedicata ai ragazzi. Alla Sala Banti di Montemurlo torna il cartellone dedicato al pubblico delle famiglie. Da domenica 5 marzo al via la quindicesima edizione di Ci vediamo a teatro. Cinque appuntamenti fino ad aprile rivolte più piccole alle loro famiglie per condividere insieme la gioia del teatro e stimolare la fantasia. Un cartellone che come da tradizione nasce dalla collaborazione tra il comune di Montemurlo e fondazione Toscana Spettacolo. È fondamentale fare teatro per le ragazze perché li stimola, li fa crescere quel senso critico ed è sicuramente uno strumento di positività. Per questo teatro ragazzi vuol dire far crescere la nostra comunità divertendosi. È un grande piacere testimoniare il grandissimo lavoro fatto dal comune di Montemurlo per incentivare la fidelizzazione, la frequentazione, l'amore per il teatro. In programma cinque spettacoli eterogenei di grande qualità artistica ma a prezzi popolari. Si inizia dunque il 5 marzo alle 16.30 con Pinocchio in 3D, una nuova produzione dei formaggini guasti, compagnia teatrale che come ogni anno collabora con il comune FDS alla rassegna. Quest'anno abbiamo scelto la poesia come tema conduttore dei nostri laboratori che coinvolgono ragazzi a partire dai sei anni in su, quindi anche dei giovani adulti. Abbiamo quindi pensato di offrire al pubblico un ventaglio quanto più ampio possibile, quindi degli spettacoli all'insegna dell'eterogeneità. L'appuntamento successivo è per il 12 marzo con Scusa, il 19 spazio a Radio Pinocchio, il 26 c'era due volte un piede. Chiude il cartellone dedicato alle famiglie il 2 aprile Camemberg Grande Mago. È un modo per avvicinare i più piccoli al teatro ed è un modo per far vivere ancora di più Montemurlo sul lato teatrale. Sapete quanto per noi questo sia importante, investire soprattutto nell'ambito culturale. Pensiamo al teatro che stiamo per andare a realizzare nel centro civico di Oste che insomma una volta che sarà completato potrà consentire di fare ancora di più attività di questo tipo. E ci colleghiamo adesso con Marilena Chiti per l'anteprima di In Salute, la nostra trasmissione di medicina e benessere in onda come ogni mercoledì alle 21.20. A te Marilena. Sì, grazie della linea. Buonasera a te e ai nostri telespettatori. Anche stasera puntata ricca, ricchissima di argomenti e di ospiti. Parleremo del mal di pancia. Quando è necessario non sottovalutare e rivolgersi allo specialista. E poi di strappi e dolori muscolari e ancora di una ninna-nanna particolare da dedicare ai bambini quando ancora sono nella pancia della mamma. E poi della chirurgia robotica e infine di dieta mediterranea. Ci vediamo più tardi. Bene, grazie Marilena. Continuiamo con le nostre notizie. Andiamo a Carmignano, dove domani riapre la piscina comunale di Comeana, intitolata Rachele Bruni. L'amministrazione ha organizzato tre giorni di Open Day nell'impianto, chiuso da giugno 2022. Si comincia domani. Apertura dalle 14 alle 21 con nuoto libero. E dalle 19 alle 20 Open Aqua Fitness, con la possibilità di provare tutti i tipi di ginnastica in acqua, che poi si ritroveranno nei corsi specifici. Nuoto libero e attività varie anche venerdì e sabato, mentre dal lunedì prossimo si tornerà all'apertura ordinaria. E restiamo in tema di sport con il calcio, periodo no per il Prato. Alle prese con la contestazione dei tifosi e con una classifica che preoccupa i particolari nel servizio di Marco Manzo. Il momento è di quelli complicati. La classifica si è fatta preoccupante. Anche i tifosi hanno cominciato a mugugnare, specificando che un'altra stagione mediocre non sono disposti ad accettarla. Non sono giorni facili per il Prato, reduce da due sconfitte consecutive e dalla partita sospesa contro la capolista per l'infortunio dell'arbitro. Al momento i biancazzuri, porco non a gara in meno, sarebbero in zona play-out, una condizione certamente non consona alle ambizioni di inizio campionato, dovuta certamente a sei punti di penalizzazione accumulati, ma anche ad un andamento altalenante. Con Brando in panchina il Prato ha vinto esattamente la metà delle gare disputate, 8 su 16 ne ha pareggiate 4 e perse altrettante, sconfitte sempre a coppia che sono arrivate dopo un filotto positivo, come a dire che la squadra ha sempre bisogno di essere in tensione per rendere al meglio, a fare ancora più rumore il fatto che due di queste siano arrivate contro le ultime due della classe. La classifica cortissima, che vede nella parte bassa 8 squadre raccolte in soli 4 punti, lascia ovviamente ottimismo sulle possibilità e sulle capacità del Prato di tirarsi fuori dalla zona calda, ma ora è in dubbio che i Lanieri dovranno affrontare ogni partita col coltello tra i denti. Dal punto di vista tecnico e tattico servirà certamente registrare meglio i meccanismi difensivi, perché il Prato subisce ancora troppo per quanto concede, e migliorare la cattiveria sottoporta, perché al contrario capitilizza poco per quanto produce. L'assenza di Movilio sta ovviamente pesando in termini di gol e pericolosità, e Diallo, che è pure ammostrato di poter reggere da solo il reparto avanzato, nelle ultime uscite apparsi un po' appannato, bisognoso di maggior sostegno da parte degli altri attaccanti. Sicuramente la classifica ora come ora non ci soddisfa, perché non è una classifica che ci può competere a una squadra come la nostra, però ora bisogna ricompattarci e per prima cosa bisogna uscire da questa posizione. Poi dopo, una volta usciti, bisogna cercare di ricreare quell'entusiasmo che si era creato fino a due settimane fa, e continuare per fare un finale di stagione ottimo, secondo me. Ed è arrivato il momento dell'agenda, vediamo insieme quali sono gli appuntamenti in programma domani a Prato e Dintorni. Domani, giovedì 16 febbraio alle 16.30 alla Camera di Commercio, luoghi della memoria, geostoria e ricerca partecipata sul territorio. Incontro con Annalisa Marchi, seconda tappa del progetto Passione, lotta e vita sociale a Prato in Val di Bisenzio, promosso dalla Fondazione CDSE e dalla Scuola del Popolo. Alle 18.30 al Centro Pecci, La Buona Condotta, presentazione del libro di Elvira Muicic, in dialogo con il giornalista Riccardo Michelucci nell'ambito della rassegna Centro Pecci Book. Alle 21.00 al Garibaldi 1020, Fantastic Negrito, White Jesus, Black Problems, film e concerto. Da domani a domenica 19 febbraio al Teatro Fabricone, Babylon, spettacolo con burattini di dimensione umana, in inglese con sopra titoli in italiano. Feriali ore 20.45, sabato alle 19.30, domenica alle 16.30. E con l'agenda si chiude il nostro telegiornale di questa sera. Vi lasciamo ora al meteo a cura del Consorzio Lamma. A seguire intorno alle 9 e alle 21.20 in salute la nostra trasmissione di medicina e benessere. L'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il Tg del giorno. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è. Affidati a veri professionisti. Prato all'armi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, CompratoPol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Tuscania offre soluzioni per aziende e privati. Pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai vent'anni, l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Tuscania, la qualità del pulito. Una buona serata dalla sala meteo del Consorzio Lama. Ancora un basso campo di alta pressione caratterizza la scena europea. Una circolazione molto locale sull'alto tirreno. Tende a far confluire delle nubi dal mare verso l'entroterra. Questa è la previsione per la giornata di domani. Domani giovedì, nel corso della notte, prime ore del mattino, ancora presenza di nebbie o foschie, nubi basse sul Valdarno Medio e Inferiore, lungo la costa, soprattutto quella centrosettentrionale. Cielo sereno in montagna, nel corso del pomeriggio venti di libeccio, come detto, tenderanno a portare delle nubi su tutta la Toscana centrosettentrionale. Addensamenti più compatti sull'Appennino, soprattutto quello di nord-ovest, provincia di Massa e Lucca. Non si può escludere l'occasionale occorrenza di brevi piovigini. Sulle zone, invece, centro-meridionali, transito di velature per domani. Temperature nei valori massimi in lieve diminuzione.